Ecco, una domanda su questa cosa qui. Quando si ottiene un successo, è già in me che cambia? O sono le persone attorno che vedono già in me cambiato? Io ho la mia teoria sul successo, anche se non l'ho assaporato davvero. Ancora brevettata. Ancora la brevettare, la teoria. Adesso vediamo se la ruba. Il successo non ti cambia. Il successo, secondo me, fa soltanto venire fuori quello che tu sei sempre stato. Ok. Ok? È un po' tipo alcol. Vero. La gente, se diventa un pezzo di merda perché hai fatto successo, lo eri dall'inizio un pezzo di merda. Aspettavo solo il momento per... Le altre persone cambiano perché le altre persone sono dei babbi di minchia. Perché gli altri hanno paura non so di che cosa. Hanno paura che tu li abbandoni perché sono più insicuri di te. Non tutti ovviamente, ma molti. Molte persone che hai intorno come amici lo fanno. Le altre persone non vogliono il tuo successo perché lo vogliono anche loro. Però magari loro dicono Eh, ma io non sono fortunato come te che tu hai trovato quello che volevi fare. Ma non è che me l'hanno consegnato. Perché non fai il rap? Dai, quasi qua. Cioè, è andata così perché il percorso della mia vita è stato questo. Non è che tu ti devi lamentare perché a te non ti è andata in questo modo. Ma trovati qualcosa da fare. Sperimenta e vedrai che un giorno ci arrivi. Io non è che faccio il rap da quando ho cinque anni. Volevo fare il disegnatore, l'astronauta, l'attore. Volevo fare tutto. Alla fine ho detto, beh, facciamo il rap che è un po' più facile.